signori e signori buonasera benvenuti idealmente ad istanbul benvenuti all'istituto italiano di cultura di istanbul do il benvenuto anche a nome della università di istanbul con il quale abbiamo organi pensato organizzato e unito le forze per questo convegno internazionale dante allighieri june sembra di universi paralleli a confronto un convegno che poi spiegherò più avanti come organizzato perché l'abbiamo pensato e che cosa rappresenta io intanto do il benvenuto all'ambasciatore d'italia ad ancara massimo gaiani e all'ambasciatore di turchia a roma omer giuk che poi ci invierà appunto il suo video saluto al rettore dell'università di istanbul mahmutak al rettore dell'università degli studi di napoli l'orientale roberto tottoli e alla dottoressa se di maktash direttrice del istituto yunus emre di roma che interviene anche in rappresentanza del professor sherefatash presidente dell'istituto yunus emre di ancara e passerei subito la parola all'ambasciatore massimo gaiani per il suo saluto purtroppo l'ambasciatore per impegni istituzionali dovrà lasciarci ma ci teneva ovviamente ad essere presente quindi passerei subito la parola all'ambasciatore gaiani grazie caro direttore signori rettori gentile direttrice gentile professoresse professori gentili partecipanti vorrei anzitutto ringraziare il dottor schirmo per aver organizzato questo bel evento e saluto caldamente gli speaker e gli ospiti collegati sui social network nel corso del duemila 21 abbiamo assistito a tante iniziative anche digitali come questa per celebrare i 700 anni dalla morte di dante e iunus emre i nostri due grandi poeti nazionali mancava un'iniziativa così direi quasi scientifica divisa su più giornate un vero e proprio convegno internazionale che riunisse attorno ad un tavolo virtuale grandi esperti della storia della letteratura e del costume dell'epoca italiani e turchi presto anche la settimana della lingua italiana nel mondo che inizierà il prossimo 18 ottobre celebrerà la figura di dante con numerosi eventi dedicati al rapporto di dante con l'oriente dell'epoca oltre che alle connessioni tra letteratura italiana e turca dante è stato il traghettatore non solo della lingua ma anche della società italiana dagli anni bui del medioevo a quelli ricchi di arte idee innovative del rinascimento e proprio sul concetto di innovazione che mi piacerebbe soffermarmi brevemente come oggi turchia italia sono due paesi che prosperano grazie all'innovazione delle loro aziende e delle loro società così dante e iunus emre furono due innovatori alte littera due precursori nei linguaggi del loro tempo e grazie anche al loro esempio nella letteratura ma anche nella vita se ancora oggi tanti studenti si cimentano con le nostre due meravigliose lingue ed è un dato che ci rende orgogliosi Italia e Turchia condividono un sostrato culturale comune e una storia millenaria data dai tanti scambi commerciali nel bacino del mediterraneo e lungo la via della seta ancora oggi è bello sapere che i nostri due popoli continuano a frequentarsi e ad arricchirsi tramite contatti ad ogni livello con una metafora stiamo raccogliendo oggi i frutti dei semi lanciati settecento anni fa proprio da questi due grandi poeti che hanno influenzato generazioni di letterati artisti ma anche la gente comune grazie al valore eccezionale delle loro opere di nuovo ringrazio il direttore schermo e l'università di istanbul per avere organizzato questo evento e mi scuserete se non potrò seguirlo per intero grazie a tutti i partecipanti e buon lavoro grazie grazie mille grazie mille a lei ambasciatore sappiamo che appunto con i numerosi impegni che in questo momento la occupano non ha voluto far mancare la sua presenza che per noi è molto significativa così come avremo adesso il saluto video dell'ambasciatore proprio perché abbiamo voluto creare sulla base di un convegno sicuramente dal punto di vista scientifico molto importante abbiamo voluto attraverso le due ambasciate i patrocini delle due ambasciate rappresentare anche questo ponte ideale di diplomazia culturale attraverso le due figure di Dante Alighieri e di Unesembre tra i nostri due paesi quindi grazie ancora veramente per essere stato qui con noi e per aver portato il suo saluto io passerei adesso appunto la parola idealmente all'ambasciatore di turchia a roma con il suo saluto prego distinti ospiti sono passati 700 anni dalla morte di due rappresentanti molto importanti d'italia e la turchia Dante e Unesembre e sono lietissimo di poter partecipare a questo evento organizzato per commemorare queste due personalità insieme sono pienamente d'accordo con la scelta dei tremi il contesto storico la letteratura e teologia perché Unesembre e Dante si assomigliano molto sia per come hanno concepito il creatore che per i loro contributi alle loro lingue nazionali prima di iniziare a parlare delle loro similitudini vorrei sottolineare che cosa rappresentano queste due personalità due letterati poeti intellettuali non solo per il loro paesi ma per tutto il mondo è un'indicazione della loro importanza anche il solo fatto che l'UNESCO abbia dedicato quest'anno a Unesembre e a Dante due persone che hanno vissuto e scritto negli stessi anni ma in territori diversi fondamentalmente si sono incontrati nell'amore e nel valore che hanno dato all'uomo non sarebbe un errore ritenere che ambe due i poeti hanno guardato l'uomo alla vita e alla morte trasmettendo dei messaggi che vanno molto oltre il periodo in cui hanno vissuto adottando dei valori universali nelle opere di Unesembre e di Dante si nota il valore che hanno sempre dato all'uomo la Divina Commedia di Dante oggi si vede come una delle fonti fondamentali dell'umanesimo. IUNUS si sente racconta il peso di offendere una persona aggettando le fondamenti dell'umanesimo in Anatolia si può dire così. IUNUS è sotto l'influenza del Sufismo e ha scoperto l'amore divino e ha vissuto questo amore fino alla morte inventando tutti a questo stesso amore. IUNUS ritiene che questo mondo sia temporaneo e che il vero obiettivo della persona sia liberarsi dai piaceri mondani e entrare sulla via di Dio. Ecco perché ha scelto la strada di diffondere l'amore aperto. Dante invece ha trovato l'amore in Beatrice che ha amato a nove anni e l'ha fatta vivere sempre nelle sue poesie. Sia Dante che IUNUS hanno mostrato la fine tragica che aspetta le persone avide e presuntuose e ambe due poeti con un intuito senza simile hanno previsto il mondo di 700 anni dopo e hanno quasi saputo descrivere l'uomo di oggi. L'individuo che oggi trascorre esaurisce la vita in cerca di piaceri mondani. Dante e IUNUS che convergono nell'amore si assomigliano molto anche per come hanno contribuito alle proprie lingue, ai propri paesi. IUNUS ha scritto tutte le poesie in turco che non era una lingua letteraria. Anche Dante ha scelto di utilizzare in diverse sue opere la lingua italiana che non era sempre ben accetta e così tutti e due hanno contribuito notevolmente allo sviluppo delle lingue che attualmente parliamo. Tutto questo ci fa vedere che IUNUS e Dante sia per come hanno concepito il creatore che per come hanno considerato prezioso l'uomo. Avevano una visione che fu valida fino a oggi e che lo sarà anche nel futuro. Aumenta la loro importanza. IUNUS e Dante hanno diffuso dei messaggi universali che ci continuano ad aiutarci e colgo l'occasione per ricordare con rispetto sia IUNUS e Dante e vi ringrazio. Benissimo. Grazie a lei, ambasciatore Guigiu, grazie per il suo saluto e per questo inquadramento anche del convegno perché poi effettivamente il convegno internazionale è stato pensato proprio in questo, cioè non soltanto analizzare Dante e IUNUS nelle rispettive lingue e nei rispettivi paesi ma vedere cosa poi li ha uniti e soprattutto che cosa poi da questi insegnamenti ne possiamo trarre anche ai giorni nostri. Veramente grazie molto ambasciatore per questo suo saluto. Io allora direi a questo punto di proseguire con i saluti istituzionali del rettore Mahmutak e pregherei anche il rettore Tottoli. Ambe due poi interverranno nella prima sessione dedicata appunto alla storia, poi spiegherò meglio appunto come è stato pensato e organizzato il convegno. Però io pregherei allora i due magnifici rettori di portare il loro breve saluto in questo momento, poi sentiremo appunto la dottore Saktas da Roma, dall'Istituto Yunus Embre di Roma per il suo saluto e proseguiremo con i lavori del convegno. Prego rettore Ak. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e Yunus Emre gibi ulu şahsietler böyle bir tanım için belki de en uygun isimlerdir. Her şeyden önce onlar maddi yaşamın hırslarına yenilmemiş, gerçek aşkın peşine düşmüş ve varlığını ayırt etmek sizin yaratılanı yaratandan dolayı sevmiş aziz kullardır. Bilindiği üzere 2021 yılı Türk kültürü ve ulusu adana önemli olayların yıl dönümüdür. Bağımsızlığımızın simgesi istiklal marşımızın kabulünün 100. yılı, ahi evranın doğumunun 850. yıl dönümü, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin vefatının 750. senesi ve Yunus Emre'nin 700. vefat yıl dönümleri bu yıla tekabül etmiştir. Bu gelişmelerin ışığında resmi makamlarımızın da katkılarıyla ülkemize çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve UNESCO'da 1991'de olduğu gibi 2001 yılını da Yunus Emre'ye adamıştır. Tabi ki tarihteki her olayın olgunun ya da kişinin ele alınması sürecine benzer bir şekilde Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ya da Yunus Emre gibi şahsiyetlerin eserleri, yaşamları ya da dünyaya bakışları içinde bulundukları zamandan ve vekandan ayrı düşünülemez. Manazgirt zaferinden sonra İslam diniyle daha fazla bütünleşen Anadolu'nun çeşitli olaylarla birlikte kendine has bir tasavvuf geleneyi yeratı Aşkardır. Yunus Emre'ye da bu geleneyi l'ospitaletâ turca. Hacı Bektaşe diventa la luce per l'identitâ turca. Nasce e vive in un momento turbulento dell'anatolia. Ci sono i mongoli, ci sono le difficoltà economiche, ci sono difficoltà politiche. La storia di Yunus inizia così. Va alla confraternita di Hacı Bektaşe tasca per un saluto ma prende saggezza che dura per secoli, cerca di insegnare a lungo a tutto il popolo. Serve la confraternita ma serve anche la pazienza e indica sempre il vero proprietario della sua identità e fa tutto questo sempre con una lingua molto semplice. La vittoria di Manziker è una vittoria che crea l'apertura totale dell'anatolia ai turchi, ai musulmani, che erano piccoli gruppi precedentemente, adesso arrivano in grandi masse. Prima anche di arrivare qua, ma anche prima dell'islam, i turchi erano monoteisti, ma grazie a queste persone hanno adottato la nuova religione sempre molto più velocemente, anche grazie a queste persone, a queste sagge e grazie anche alle costruzioni delle scuole, anche edifici di ospitalità come caravanserraglie. grazie ai sufi l'informazione fu distinta senza esagerazioni e solo grazie all'amore, rispetto e a tolleranza hanno creato una lingua e un futuro molto prezioso. Yunus Emre ha creato una lingua così semplice, così chiara, che ha fatto sì che lo adottassero anche le generazioni successive. Oggi le sue poese si leggono tutt'oggi con amore, con comprensione e chiunque volesse vedere e capire, la vita c'è nella maniera più semplice e immaginabile. Ecco perché uno sembra rimanere sempre nuova, sempre aggiornata, per chi cerca la pace, per chi cerca la tolleranza. Ecco perché nel 2007 l'istituto della nostra cultura fu fondata con il suo nome, con il nome di Yunus Emre, con il nostro istituto, si diffonde la cultura turca in tutto il mondo. Colgo l'occasione, la cattedra di italianistica dell'Università di Istanbul e dell'Istituto Italiano di Cultura, che insieme a Dante lo celebrano sette anni, a settecento anni di distanza. Grazie. Grazie, grazie mille, professor Hach, per il suo saluto. Ascolteremo poi più tardi, moderato dalla professoressa Barbara Celebi dell'Amate, il suo intervento che sarà sicuramente interessantissimo, come il suo saluto ci ha già fatto pensare. Pregherei allora adesso al rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, il professor Roberto Tottoli, di darci anche a lui un suo breve saluto in questa fase, in attesa di sentire anche la sua relazione più tardi. Prego, professor Tottoli. Grazie, caro direttore, di questo invito, che mi permette di parlare in una duplice veste, cosa che non è comune. In primo luogo, nel mio ruolo istituzionale, in cui non può mancare ovviamente un saluto a tutti i partecipanti, a partire dagli ambasciatori con il loro saluto introduttivo, a tutti i presenti e in qualche modo rappresentare il significato che ha la partecipazione mia anche al nome come rettore dell'Ateneo, del mio Ateneo, nella vicenda dei rapporti culturali con la Turchia, il mondo turco, che in particolare all'orientale di Napoli, hanno una lunghissima tradizione, sono continuamente coltivati e sono un ponte fondamentale di conoscenza reciproca, non solo linguistica e letteraria, ma direi generalmente culturale, di cui all'interno delle sponde vicine, ma a volte lontane dal Mediterraneo, è un fattore così importante di convivenza futura in una realtà mondiale così ampia. E quindi, come dire, questa mia soddisfazione riguarda il mio ruolo istituzionale. Vi è poi quella che sarà in qualche modo esplicitata dal mio intervento, anche la mia competenza professionale, in quanto io sono studioso di islamistica e quindi l'occasione di partecipare a un evento di questo tipo è doppiamente significativa per me, oltre che per l'ustituzione, anche per le mie competenze, per la mia possibilità di partecipare a una giornata di questo tipo. L'argomento, come sappiamo, accomuna queste due nazioni in maniera, direi quasi sorprendentemente, significativa. Due figure così importanti di cui ricorre nello stesso anno i 700 anni della morte e quindi rappresenta in qualche modo una saldatura di quelle che sono state all'interno delle rispettive culture, due figure fondamentali. Fondamentali nel senso di quello che si diceva finora dei valori umani comunicati nelle loro opere e nella costruzione di una lingua, nella costruzione della lingua, la costruzione di una nazione o di un senso nazionale legato alla lingua. In Italia, come credo in Turchia, è un anno di grandi festeggiamenti in ordine per sottolineare l'importanza di queste figure e quindi la partecipazione, il connubio dettato da questa comunanza culturale è ancora più importante perché mostra come questi valori di contenuto umani, mondiali, generali, sono anche corroborati in questo caso da quella creazione di una lingua letteraria che parla ancora oggi, così come il collega rettore rappresentava quella leggibilità e fluibilità ancora oggi delle opere di Yunus Emre, la stessa cosa la possiamo dire noi italiani che ci formiamo leggendo, imparando ancora da Dante, una lezione che non manca e si riverbera in tutto il mondo, così come lo stesso Emre in mille forme di traduzione, fa sentire il suo messaggio ancora oggi. Sono figure di cui non solo le nostre nazioni hanno ancora bisogno e necessitano di rivolgersi, ma parlano in pratica a tutta l'umanità, a tutto il mondo. Quindi grazie di questa possibilità e auguro poi anche nel proseguio, nelle prossime giornate, quando sicuramente non potrò essere presente, di proseguire su questa linea e proseguire in lavori proficui di comunanze, di condivisioni, di esperienze, di conoscenza. Grazie. Grazie, grazie a lei, professor Tottoli, e quindi mi verrebbe, grazie dei suoi auguri innanzitutto, ma soprattutto grazie due volte, quindi per la sua presenza, per aver accettato appunto l'invito alla quale noi tutti, e quando dico noi, intendo proprio l'Istituto di Cultura e il Dipartimento di Italianistica, dove peraltro lavorano diversi orientalisti nel senso di legati all'Orientale di Napoli, quindi legata alla sua università, e grazie anche per ovviamente per aver accettato di fare la sua relazione, quindi nel tema e nel merito dell'argomento. Veramente le siamo profondamente grati. passerei adesso la parola alla dottoressa Sevi Maktash, direttrice dell'Istituto UNUSMRE di Roma, con la quale abbiamo stabilito anche un buon ponte di collegamento tra i nostri due istituti, l'Istituto Italiano qui di Istanbul e l'UNUSMRE a Roma, che ci porterà il suo saluto anche in rappresentanza del professor Sherefatesh, presidente centrale dell'Istituto UNUSMRE di Ancara, che ha accettato subito il nostro invito ad essere qui con noi, ma per impegni internazionali purtroppo non ci potrà accompagnare questa sera, ma sappiamo che qui con noi sia idealmente sia attraverso la presenza della dottoressa Sevi Maktash. Prego. Ti c'è credere? Grazie. Grazie. Grazie mille. Io prima di tutto è la seconda volta che sto parlando con voi e grazie a questa iniziativa di questa sera. Turchia e l'Italia e tutte queste ideologie di questi poeti sono due poeti universali. Tanti Alighieri e l'UNUSMRE e proprio sono passati 700 anni dopo la loro morte e di conseguenza voglio ringraziare l'Istituto di Cultura Italiana e ovviamente anche gli ambasciatori Massimo Gagnani e Mahmoud Emel Kujuk. Se anche non sono per adesso con noi, li saluto rispettosamente ovviamente anche Mahmoud Ak, lettore dell'Università di Istanbul e Roberto Totto, direttore dell'Università Orientale, li saluto rispettamente. Anche signora Barbara Della Abate la saluto con grande piacere. Sono molto contenta di averla conosciuta. Unesca ha dedicato quest'anno a questi nostri due poeti. Di conseguenza noi, come due istituti, siamo stati molto felici per questa partitica perché ci sono tanti elementi che uniscono l'Italia e la Turchia ma oltre quello ci sono anche dei simboli filosofici per i nostri paesi. Hanno vissuto nello stesso periodo e sono morti nello stesso periodo e questo molto significativo. Forse è un dono divino questo per i nostri paesi perché tutti due hanno avuto una filosofia di vita molto simile fra di loro. Hanno cercato di capire l'universo, hanno contributo alle nostre lingue, alla cultura del nostro popolo e hanno fatto iniziare una nuova strada per noi. Prima di tutto, specialmente il turco e la lingua italiana, sono diventate delle lingue nazionali e tutti quanti nel modo semplice hanno parlato grazie a questi due poeti. Loro hanno costituito questo mondo. Se anche la nostra storia è diversa, sappiamo che questi due personaggi ci hanno unito in un certo modo e sono due valori umani e siamo molto contenti che vengono ricordati anche da parte di UNESCO. Il mondo e tutte le ambizioni mondiali le dobbiamo lasciare da parte, dobbiamo condividere, dobbiamo essere buoni di cuore e per questo hanno lasciato tante poesie e tanti aneddoti e da 700 anni che queste idee vanno avanti e noi come istituti di cultura, con le nostre attività stiamo vivendo questo concetto. Noi per la Turchia quest'anno sappiamo che il 2021 è importante perché non solo da UNESCO ma anche la presidenza della Repubblica è stata pubblicata come l'anno di UNUSEMRE. Di conseguenza noi come istituto in ogni angolo del mondo abbiamo organizzato diversi eventi, concerti eccetera e andiamo avanti, cerchiamo di far capire questo grande amore per l'uomo e cerchiamo di creare i legami di amicizia e in 194 paesi cerchiamo di insegnare la nostra lingua. Infatti UNUSEMRE aveva detto venite che ci conosciamo, così cerchiamo di aprire il nostro cuore agli uomini e di conseguenza vogliamo portare avanti la collaborazione anche con l'Italia e ne siamo molto contenti veramente. Infatti anche il simposio di oggi è una condivisione di di questo tipo e pensiamo, speriamo che ci siano altre iniziative al nome di Dante e di UNUSEMRE. Vorrei ringraziare il signor Presidente Schirmo e a tutto il suo staff per questa serata meravigliosa. Voglio concludere con le loro parole il mio discorso, con le parole dei due poeti, essere, avere l'avidità umilia tutte le bellezze e poi dà importanza all'umanità. L'amore invece rende grande l'uomo e ecco anche UNUSEMRE aveva detto più o meno la stessa cosa. Bene, grazie e grazie mille per queste parole, insomma innanzitutto per la presenza dell'UNUSEMRE istituto. Abbiamo tenuto moltissimo a che il vostro istituto fosse presente qui, proprio nella massima rappresentanza, proprio per far vedere come questo ideale gemellaggio tra Dante Alighieri, UNUSEMRE e il gemellaggio fra le nostre due istituzioni culturali, l'istituto di cultura e lo UNUSEMRE e le nostre due ambasciate rappresentassero proprio questo grande senso di anche fraternità, se così vogliamo dire, no? Per usare proprio una parola di UNUS e una parola di Dante. Grazie veramente molto per la sua presenza qui questa sera e la prego di portare i nostri ringraziamenti al professor Sherefatash per la sua disponibilità e per il patrocinio che ha voluto dare a questa iniziativa. Veramente grazie mille Sevi Maktash. Quindi direi che possiamo a questo punto considerare conclusa la parte dei saluti istituzionali e vado a presentare un po' quello che è l'iniziativa di questa sera, no? Come è stato ormai ricordato ampiamente, l'Italia e la Turchia celebrano nel 2021 il settecentesimo anniversario della morte di questi due sommi poeti, padri della lingua e della letteratura nei rispettivi paesi. Dante Alighieri per l'Italia e UNUSEMRE per la Turchia. E proprio per celebrare questo evento eccezionale direi, l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Istanbul hanno unito le forze ed organizzato questo convegno internazionale dal titolo proprio Dante Alighieri e UNUSEMRE, due universi paralleli a confronto. Un evento che gode appunto del patrocinio dell'Ambasciata d'Italia d'Ancara, dell'Ambasciata di Turchia a Roma e dell'Istituto UNUSEMRE di Ancara al quale poi abbiamo visto con la presenza del Rettore Tottoli potremmo considerare anche aggiunto il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli orientale. Con questo convegno appunto intendiamo celebrare la grandezza di Dante Alighieri e di UNUSEMRE non solo individualmente ma proprio all'unisono facendo nel confronto, ponendo a confronto elementi anche meno conosciuti non solo al grande pubblico, anche a alcuni studiosi, a alcune persone che seguono più da vicino l'insegnamento di Dante di UNUSEMRE, alcuni aspetti potevano non essere molto conosciuti. Infatti l'auspicio è che da tale approfondimento possano poi emergere nuove sfumature che vadano ad arricchire anche la relazione di questi due grandi paesi del Mediterraneo sul filo di un dialogo millenario che ha visto intrecciarsi la storia e la cultura italiana e turca. L'evento è strutturato appunto in quattro distinte conferenze tenute tutte dai rinomati specialisti del settore. Il convegno avrà luogo come vediamo in diretta sulla piattaforma Zoom Webinar e sui canali sociali dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul a partire da oggi 30 settembre con cadenza settimanale e terminerà il 21 ottobre in coincidenza con la ventunesima settimana della lingua italiana nel mondo. Questo convegno appunto si prefigge di investigare in ognuno dei suoi incontri eh un tema relativo al mondo poetico letterario storico e filosofico dei due poeti. Questa sera il primo incontro avverterà appunto sul periodo storico e sugli eventi che hanno accompagnato la vita dei due poeti in Italia e in Anatolia. Modererà questo intervento questa sera la professoressa Barbara della Bata Celebi eh che ringrazio e saluto per aver e del e docente del dipartimento appunto di italianistica dell'Università di Istanbul come tutti i moderatori che poi la seguiranno e la ringrazio perché è stata un po' il nostro corrispondente all'Università di Istanbul ha curato tutto il convegno dal punto di vista scientifico lavorando veramente in squadra con i suoi colleghi del dipartimento e quindi veramente la ringrazio non solo questa sera per moderare questo intervento che poi seguirà ma per il grande lavoro fatto insieme agli altri colleghi nell'organizzare tutta la parte scientifica del convegno. Ci saranno appunto gli interventi del rettore Roberto Tottoli di Mamutac che abbiamo già visto nei saluti. Il secondo incontro avrà luogo il sette di ottobre e avrà invece come tema la letteratura. Questo incontro sarà moderato da Sadri Gunesh che è la capo del dipartimento di italianistica dell'Università di Istanbul e avremo degli interventi di del professor Emilio Torchio dell'Università di Padova e del dottor Iskender Pala scrittore, saggista turco. Questo perché? Perché abbiamo messo sempre a confronto come nel caso di Tottoli ed Acche, nel caso di Emilio Torchio e Iskender Pala, due voci, una voce italiana che potesse parlare di Dante Alighieri e una voce turca che potesse parlare di Inu Sembre e in questo dialogo cercheremo di intrecciare sui vari temi il tema invece più grande del convegno. Il 14 ottobre invece si parlerà della teologia e della mistica di Dante Ionus e modererà l'incontro il professor Cristiano Bedin che appunto ringrazio e avrà come ospiti gli interventi di Paola Nasti che ci interverrà dalla Northwestern University negli Stati Uniti e il professor Genan Cursoi dell'Università Aiden di Istanbul. La data finale invece del 21 ottobre, quindi il quarto ed ultimo webinar, vedrà come tema conduttore la lingua. La lingua proprio nelle opere dei due grandi poeti in un evento pensato appositamente come evento speciale anche nel programma dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul nell'ambito della ventunesima edizione della settimana della lingua italiana nel mondo che ha proprio come tema Dante l'italiano. In questo caso modererà l'incontro la professoressa Antonella Elia che insegna lingua e letteratura italiana al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Istanbul, professore associato di questo dipartimento ed è anche lettore inviato dal Ministero degli Affari Esteri. Antonella Elia modererà gli interventi del professor Roberto Mondola dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale e di Ayati Devel dell'Università di Istanbul che è il decano della facoltà di lettere, quindi rappresenta al massimo livello quello che può essere l'insegnamento della lingua italiana proprio nella nella facoltà di lettere dell'Università di Istanbul. Ricordo che per partecipare ai quattro webinar è possibile visitare il sito web dell'Istituto Italiano di Cultura www.iicstambul.esteri.it, seguire le indicazioni per ogni conferenza. Tutti gli interventi saranno come questa sera in su webinar, tutti dal vivo, in lingua italiana con traduzione simultanea e lingua turca e anzi ringrazio pubblicamente i nostri due traduttori eh Nurso Turk e Sedat Bornavalet che ci accompagnano appunto con le loro traduzioni nelle due lingue per rendere il più possibile comprensibile sia gli italiani che i turchi il contenuti di questo evento. Al termine di ciascun intervento ci sarà una sessione di domande e risposte appunto moderate dalla dai vari moderatori degli interventi. Non è necessaria la preventiva registrazione quindi credo di aver detto tutto. Eh vi saluto, vi invito appunto a seguire questo è uno dei più grossi eh eventi legati all'anno di Dante e altri eventi sono stati fatti, sono tutti disponibili sul nostro canale YouTube, tanti altri li faremo, quindi faccio veramente a tutti eh i nostri collaboratori del Dipartimento di Italianistica che seguiranno poi nei giorni a seguire eh i veramente i miei migliori auguri. Eh la nostra intenzione è poi mh provvedere a preparare una pubblicazione con gli atti di questo convegno affinché poi rimanga anche in futuro traccia di eh che cosa emergerà da queste analisi. Quindi io ringrazio ancora tutti per essere stati presenti, passo la parola alla nostra modellatrice di questa sera, la professoressa Barbara Dell'Abbate e vi saluto. Grazie di essere intervenuti. Ok, buonasera. Buonasera a tutti. Eh ringrazio naturalmente eh il dottor Schirmo per questo questa bellissima introduzione e eh tutti i partecipanti. Allora io sono molto emozionata di essere qui stasera eh dopo tanti mesi di lavoro nell'organizzare questo evento che eh abbiamo pensato e voluto eh quasi un anno fa eh come dipartimento di lingua e letteratura italiana dell'Università di Istanbul e che abbiamo proposto a gennaio al direttore dell'istituto eh il dottor Schirmo che ha subito accettato eh di collaborare con noi eh nell'organizzarlo. Eh sono ancora più emozionata e onorata eh nel moderare questa prima giornata che vuole essere in effetti una giornata introduttiva eh legata al contesto storico eh e che vede la presenza di due titani eh se così si vuol dire eh nei loro rispettivi campi di studio e che hanno un profondo legame con la mia vita accademica. Eh il professor Tottoli eh rettore dell'Università Orientale di Napoli e dove mi sono laureata e il professor Mamutak eh rettore dell'Università di Istanbul e dove ho fatto il mio dottorato e dove lavoro eh attualmente. Quindi se eh parliamo di due padri della della patria no? Dante Alighieri e Iunus Emre per me è ancora più entusiasmante farlo con due maestri eh che hanno avuto eh e che hanno un forte legame con la mia stessa vita. Ma eh qual è lo scopo di questo evento? Eh perché l'abbiamo pensato? Ma l'idea centrale eh lo scopo è di far conoscere semplicemente agli italiani la figura di Iunus Emre e ai turchi eh la figura di Dante Alighieri. Mondi che sembrano distanti ma che invece sono molto più vicini di quanto potremmo pensare eh e su cui naturalmente eh rifletteremo eh in queste quattro giornate. Allora io non vorrei dilungarmi troppo eh naturalmente vorrei lasciare subito la parola ai nostri ospiti e prima il professor Tottoli eh e poi il professor Hack eh vi ricordo che potete mh naturalmente ascoltare i loro contributi in traduzione simultanea. Ehm quindi brevemente vorrei introdurre il nostro primo relatore che è il professor Roberto Tottoli. Eh brevemente è un ossimoro. Ci vorrebbero quattro giornate di studio solo per elencare tutto ciò che ha fatto e scritto il professor Tottoli. Quindi ehm posso dire eh semplicemente che è uno dei più importanti islamisti italiani. È il rettore da novembre duemila e venti eh del prestigioso Ateneo l'Orientale di Napoli che eh ricordo ai nostri ascoltatori turchi che non lo conoscessero è un istituto fondato nel mila e settecentotrentadue ed è il più antico centro di sinologia e orientalistica d'Europa. Eh il professor Tottoli ha studiato letterature orientali alla Cafoscari di Venezia e ha conseguito il suo dottorato di ricerca presso l'Università Orientale di Napoli. Ha collaborato con prestigiosa Università, la Hebrew University, Princeton, Harvard, HETES di Parigi, Institute for Advanced Study di Tokyo, l'Università di Pennsylvania e eh dal duemila diciannove è anche socio dell'Accademia dei Vincei eh ha fatto ricerche sui progetti biblici nell'Islam, si occupa di letteratura islamica e eh delle edizioni e traduzioni del Corano in età moderna e di storia della civiltrazione musulmana. Quindi oltre a una ricchissima produzione accademica di decine di monografie dedicate all'Islam, il professor Tottoli eh svolge anche attività giornalistiche e dal duemila e undici scrive eh del mondo islamico per il Corriere della Sera. Eh l'intervento del professor Tottoli di stasera è il titolo eh Dante eh l'Islam e il mondo arabo andate e ritorno eh in cui ci parlerà del rapporto della commedia di Dante ed in particolare delle influenze islamiche sull'opera di Dante. Allora io lascerò subito ecco la parola al professor Tottoli che ringrazio e che invito. Grazie eh a lei per l'invito e grazie anche per questa estremamente generosa introduzione che mi ha fatto un po' sudare eh sarà che a Napoli è sempre un'estate continua e fa caldo però insomma sempre emozionante sentire queste introduzioni estremamente generose. Ehm partecipando a in questa duplice veste come rettore ma soprattutto come studioso eh il tema che mi piaceva presentare in questa occasione era proprio eh fare il punto nel tempo che sarà disponibile su quella che è la la storia di Dante e la sua commedia nei rapporti con Islam e il mondo arabo che è stato un argomento a lungo dibattuto anche con grandi contrasti, divisioni e di interpretazioni per tutto il ventesimo secolo. In particolare sul grande tema delle possibili ipotetiche fonti islamiche connesse all'immaginario dantesco. Eh le ricerche più recenti in questo ambito mettono in luce come insomma sono suggestioni e conoscenze di vario tipo di origine islamica proveniente dal mondo islamico erano sicuramente tra le conoscenze possibili di Dante eh nella Firenze del tredicesimo e inizio quattordicesimo secolo. Eh almeno negli studi in Italia e in Europa un minore attenzione è stata in genere rivolta invece all'altra direzione di rapporti tra Dante e mondo islamico ovvero l'influenza possibile e la circolazione di Dante della sua opera nel mondo arabo e islamico. In questo ambito eh il dibattito sulle fonti del ventesimo secolo della commedia ha inciso nel senso che vi è stata una una certa ricezione in varie realtà del mondo islamico di come eh gli studiosi da una parte dall'altra cominciassero a sollevare quesiti no sull'idea della commedia sulle eventuali possibili rapporti tra la commedia e e opere provenienti dal mondo dal mondo islamico. Eh la questione delle influenze e delle suggestioni connesse al ricco e complesso immaginario della commedia di Dante eh ha conosciuto come dicevo varietà di proposte anche differenti fortune. Eh lo studio che ha segnato un'epoca in tale ambito e che ha posto al centro dagli studiosi europei la questione delle influenze islamiche sull'opera di Dante si deve all'orientalista e religioso spagnolo cattolico Miguel Asim Palacios la cui tosi di fondo era che il viaggio nell'ontretomba di Dante avrebbe numerose e non casuali somiglianze con narrazioni simili presenti nella letteratura islamica e in particolare con alcune opere letterarie eh che contenevano versioni della storia religiosa del viaggio notturno e dell'ascensione in cielo di Muhammad cioè l'Israel Miraj. Secondo Asim Palacios le similitudini riguardavano soprattutto la concessione del viaggio e il senso veicolato delle visioni del paradiso e dell'inferno in un confronto che vede in certa letteratura islamica la possibile fonte privilegiata. Le critiche seguirono a questo studio pubblicato nel 1919 in genere vertevano sul fatto che mancava una testimonianza diretta di questo rapporto però in realtà questo possibile canale diretto è stato poi scoperto qualche anno dopo quando proprio nello stesso anno nel 1949 due studiosi uno all'insaputo dell'altro Enrico Cerulli e José Sendino hanno pubblicato un libro intitolato Libro della Scala una traduzione francese castigliana e latina che sarebbe stata prodotta alla corte di Alfonso X sovrano di Castiglia verso il 1264 e che conteneva un testo che descriveva in una lunga narrazione l'ascensione del profeta Muhammad poi realizzata nella traduzione in latino e in francese da parte di Bonaventura da Siena presso la colte di Alfonso X vi erano vari fuoriusciti toscani anche fiorentini ecco quindi il possibile anello mancante della possibilità che in qualche modo conoscenza di un testo di questo tipo potesse essere giunto a Dante e al suo ambiente un altro canale significativo di qualche magari più ridotta ma comunque presente conoscenza di queste concezioni e di questa letteratura islamica sull'ascensione del profeta Muhammad e delle sue visioni di paradiso e inferno poteva circolare in Firenze nello stesso periodo in cui visse Dante grazie all'opera e alla vicenda biografica del frate domenicano ricordo da Montecroce ricordo da Montecroce che era vissuto per quasi un ventennio tra Bagdad e vari paesi del mondo e varie regioni del mondo islamico e che a ritorno scrisse un'opera che conteneva anche un capitolo non esteso come il libro della scala ma significativo in cui menzionava l'ascensione in cielo di Muhammad negli studi che sono seguiti alla scoperta di questo libro la questione delle presunti fonti ha cambiato l'ordine del discorso ed è stata anche modulata dall'emergere di una serie di sensibilità diverse sfumando anche la questione dei rapporti letterari diretti e introducendo quei concetti con cui ci misuriamo oggi con gli studi di letteratura parlando di intertestualità e ragionando in termini di suggestioni culturali ovvero il genio di Dante come del resto quello di Yunus Emre poetico è un dono naturale personale però Dante poteva ben conoscere la storia islamica ma più che per averne tratto ispirazione diretta dalla lettura e da una consultazione attenta di un testo averne ricavato in qualche modo un'idea una possibilità di una costruzione in cui declinare il proprio genio il proprio genio letterario. La storia di tutta questa vicenda seguita al libro di Assin Palacios merita qualche considerazione più generale sulla ricerca e la sua stretta connessione con vizi pregiudiziali o condizionamenti sociali e politici insomma gli studi di un certo tipo di un secolo fa sono marcati da una ricerca spasmodica di un'origine di qualcosa con continue con continue polemiche. Oggi e molte ricerche vanno in questa direzione se molto è stato fatto in linea con quanto detto finora però visioni cambiano e procedono in più direzioni e si ha una concezione un po' più ampia e una visione per così dire meno legata all'idea di cercare per forza di cose una presunta origine di un concetto di un'idea. Per esempio molta strada in questa direzione è stata compiuta e deve essere uncompiuta da parte di chi studia l'islam e la letteratura islamica del tempo di Dante perché l'analisi delle tradizioni di certa letteratura soprattutto più antica sul viaggio e l'ascensione del profeta Muhammad non ha potuto mancare di sottolineare come una serie di opere scritte nelle maggiori lingue del mondo islamico partendo dall'arabo ma il persiano il turco e poi anche le varie lingue hanno ampliato notevolmente le produzioni che descrivono questo evento miracoloso del profeta Muhammad e in qualche modo facendo una sorta di ponte verso quello che poi sarà il libro della scala e le possibili accesso a fonti da parte da parte di Muhammad. Queste produzioni medievali islamiche frutto di un vero e proprio processo di ampliamento narrativo delle prime storie attestate fin dai detti dagli hadith di Muhammad mettono in luce come il libro della scala e le presunte possibili fonti di conoscenza di Dante sono un esempio pienamente riconoscibile in una tradizione molto più ampia circolante anche in un'Europa che quando siamo nel tredicesimo quatterticesimo secolo aveva contatti col mondo islamico aveva un rapporto di mondo islamico molto più osmotico e ricettivo di oggi. Islam era una grande civiltà che si confrontava con il nord europeo e il passaggio di nozioni anche di testi era sicuramente molto più significativo di quanto non pensiamo non pensiamo oggi. Gli studi più recenti hanno messo in luce la rilevanza anche dell'accrescimento di queste come dire di narrazioni relative a descrizioni dell'aldilà del paradiso dell'inferno in tutte le letterature musulmane andando perfettamente in linea con quello con quello che contiene e con quello che contiene la Divina Commedia. Siamo a un punto in cui più che cercare ulteriori testi la ricerca più recente si rende conto che tra le due sponde del Mediterraneo come dire il poema di Dante si inserisce in una cresciuta sensibilità verso queste visioni apocalittiche ed escatologiche che anche nelle tradizioni europee devono molto al contatto con analoghe tradizioni di provenienza islamica in arabo innanzitutto ma poi anche nelle grandi lingue del Mediterraneo della civiltà musulmana. La discussione sulle presunte fonti o influenze islamiche arabe sulla commedia ha originato anche in maniera abbastanza curiosa uno stimolo all'interno del mondo islamico e arabo in particolare per cominciare a considerare queste presunte influenze islamiche e recuperare attraverso queste l'opera all'opera di Dante. I primi a muoversi in tale direzione sono stati i primi esempi che provengono dal mondo arabo tra fine diciannovesimo e ventesimo secolo anni in cui si introduce la conoscenza di Dante e si avviano le prime traduzioni della Divina Commedia da prima in arabo e dopo questo anche in altre lingue del mondo del mondo islamico. Siamo in questo periodo all'interno di come sappiamo di un rapporto complesso tra paesi islamici occidente, non tutti ma gran parte dei paesi islamici occidente, tra colonialismo, spinte imperialistiche, postcolonialismo, problematiche politiche economiche e culturali dell'ultimo secolo in cui come dire la questione di rapporti fra i due mediterranei sembra essere diventata nelle valutazioni quasi più complicata di quanto non fosse nelle vicende passate, in un secolo in cui le facilità di comunicazione sono in realtà cresciute. In questo ambito le prime traduzioni arabe della Divina Commedia sono state realizzate a partire dal 1930, proprio sulla scia di questi dibattiti tra gli studiosi europei sulle presunte influenze da parte islamiche nei confronti della Divina Commedia e anche dopo soprattutto la scoperta del Libro della Scala, che è la traduzione evidente rimaneggiata di un testo islamico in lingua latina e francese, ha cominciato a suggerire anche a studiosi dai vari paesi del mondo islamico una lettura della Divina Commedia in termini di intertestualità e di condivisione di immaginario, la condivisione di un immaginario comune per certi versi mediterraneo di cui la Divina Commedia potrebbe essere testimone. È da questo periodo quindi, dal ventesimo secolo, che l'opera di Dante, soprattutto nel mondo arabo, innanzitutto, prima degli altri paesi, comincia ad entrare anche in testimonianze di natura letteraria o giornalistica e diventa per certi versi un tema. Si comincia a pubblicare i sunti della Divina Commedia, i temi del viaggio e dell'allegoria escatologica interrogano e toccano punti comuni con l'immaginario della cultura araba islamica ed è in qualche modo significativo come, insomma, è questa consonanza di tematiche che colpisce la prima ricezione all'interno del mondo islamico. Così come dall'altra parte del mondo, del mondo mediterraneo a nord in Europa, a partire da Simpalassios, questa consonanza era stata l'origine degli studi che abbiamo citato. C'è da dire che l'occasione della Divina Commedia, soprattutto nel mondo arabo, non fu dettato solo da un interesse comparatistico e di scoperta. Il fatto che, ad esempio, a Simpalassio sottolineò il parallelo della Divina Commedia con alcuni capolavori della letteratura, ad esempio, araba e proveniente dal mondo islamico, come la Risala Tal-Hofran di Abu Dharal Mahari, riportò in auge questa letteratura che venne ripubblicata, tradotta anche in altre lingue del mondo islamico, a sottolineare quindi come questa comunanza di immaginario letterario portò a una maggiore conoscenza tra le due sponde del Mediterraneo delle opere degli uni e degli altri. Un altro canale, anzi, un canale principale e che consentì poi all'opera di Dante di diffondersi anche in altre realtà del mondo, del mondo islamico, è sicuramente quello della traduzione, che nel caso del fiorentino italiano di Dante è un'impresa di non poco conto e questo spiega perché traduzioni complete della Divina Commedia si affacciarono sicuramente nel corso del ventesimo secolo con non, come dire, con in mani fatiche da parte di traduttori eccetera. Lo sappiamo bene, lo sanno gli italiani e l'italiano di Dante non è facile per gli stessi italiani, figuriamoci per un traduttore quale impresa è questo libro particolarmente voluminoso. Abbiamo detto appunto come le prime traduzioni che provenivano dal mondo arabo partono dagli anni del 1930, la prima completa anche più filologicamente sorvegliata si deve a un'italianista, Hassan Hoffman, che la scrisse tra il 1955 e il 1969 e lo accompagnò con molti studi veicolando proprio all'interno di tutto il mondo arabo una conoscenza più approfondita e consapevole dell'opera, dell'opera di Dante. Insomma la sua edizione in arabo e sicuramente le sue introduzioni sono veramente un esempio significativo della ricezione dell'opera di Dante, non necessariamente sulla tematica delle influenze, ma proprio come esperienza letteraria presentata a un pubblico che è in grado di capire un immaginario letterario e culturale e culturale comune. L'opera di Dante è stata poi tradotta nelle altre lingue. La prima traduzione completa in turco si deve a direttore Kintexoi e la docente Anna Masala di Roma, proprio della fine del ventesimo secolo, era presente in qualche modo anche qui il connubio, come dire, la convergenza di capacità di questi due traduttori. E così anche in Persia dove l'opera è stata tradotta a partire dagli anni cinquanta da parte di un traduttore Shujia Din Shafaa che ebbe anche una causa, anche scusate una causa, assolutamente, una laurea, un'oris causa dalla sapienza per quest'opera considerata, come dicevo io, tutt'altro che facile. Mi avvio alla conclusione menzionando un altro caso particolare che ci sposta verso l'oriente dell'ampio mondo islamico e che ci richiama ancora all'uso della lingua persiana, però da parte del grande poeta nazionale pakistano Muhammad Iqbal, che scrisse un Javid Namè che ripercorre le tematiche dantesche, tutte queste influenze eccetera, citando anche all'introduzione della sua opera di essere stato ispirato da alcuni letterati europei come Goethe, John Milton, ma in particolare dalla Commedia di Dante, probabilmente letta in una traduzione inglese, ma che sarebbe stata l'origine dell'ispirazione di questo capolavoro della letteratura persiana, scritta appunto da uno dei, sicuramente, delle figure dei letterati più importanti del ventesimo secolo a livello mondiale. Il fattore particolare di questa vicenda è proprio che la Commedia diventa motivo ispiratore, partita probabilmente come suggestione di immaginario apocalittico ed escatologico da certa letteratura musulmana arrivata a Dante, che vi ha immesso il suo genio linguistico, ritorna in qualche modo attraverso l'ispirazione data a un grande poeta del ventesimo secolo del mondo islamico in una sorta di circolarità che, come dire, dimostra la comunanza di questo immaginario religioso. Concludendo, io credo che si possa dire che il rapporto tra Commedia di Dante e mondo arabo-islamico, ma direi islamico tutto, a parte direi che è fortemente segnato da una relazione plausibile quanto dibattuta questione delle origini del poema stesso, che ricade anche sulla sua diffusione contemporanea. Però, certo, molta ricerca si deve ancora fare, perché le nostre conoscenze su questa circolazione di materiali e di letterature di sensibilità è sicuramente ridotta. Allo stesso tempo, il prodotto finale della Commedia di Dante, nella sua ricezione nel ventesimo secolo nel mondo islamico in generale, mostra la capacità di parlare del capolavoro della letteratura italiana anche al di fuori dei propri confini. È un immaginario che solo apparentemente sembrerebbe remoto da altri ambiti culturali, in cui la profonda ispirazione religiosa è più su tematiche comuni che non fra diversità confessionali. Insomma, Dante e la sua Commedia, come dire, è in qualche modo il risultato più evidente delle vicende qui descritte, che sono state e che rappresentano un punto di dialogo fondamentale di transito di un immaginario letterario e religioso condiviso all'interno del Mediterraneo, ma anche capace di parlare ben oltre questo nostro Mediterraneo. Finalità diverse, immaginario comune, hanno fatto e fanno della Commedia un monumento letterario che quindi può parlare in maniera immediata a tutti e in ogni tempo. Io concludendo aggiungo che da quello che so anche della figura di Juno Semre, credo che, come dire, la capacità di parlare oggi come allora e di costruire con una lingua un messaggio universale fondamentalmente, e lo diranno gli studiosi che seguiranno, accomuna anche questa figura e la celebrazione, le celebrazioni comuni testimoniano, in questo caso, di figure che sanno parlare a più realtà con un immaginario non solo letterario, ma anche di simboli, di contenuti, che è fondamentalmente comune. Vi ringrazio per la vostra attenzione, come si diceva, sono pronto a rispondere ad eventuali domande che credo sorgano naturali, perché ovviamente in questa mia breve comunicazione non ho potuto tracciare alcune linee molto generali e ampie. Grazie. Allora, ringrazio il professor Tottoli, veramente è stato un'andata e ritorno entusiasmante. Infatti la giornata di oggi, essendo una giornata introduttiva, ed avendo avuto i saluti istituzionali, abbiamo deciso di non prendere le domande, perché il tempo è un po' tiranno, quindi io chiederei comunque alle persone se avessero domande di scriverci e noi naturalmente le indiremo al professor Tottoli o avremo occasione di parlarne nei prossimi incontri. Io saluto il professor Tottoli perché so che lui ha un altro evento, quindi io sono cosciente della difficoltà a volte di mettere insieme il tutto e spero di averlo come nostro ospite in presenza e in futuro presso la nostra università e di una conferenza, quindi spero che questo sia l'inizio di una collaborazione tra la nostra università e il nostro lettore, il professor Axar d'accordo, e l'università orientale e credo che questa fratellanza, ecco, sia una cosa che i nostri Dante e Lino Sembrè possono insegnarci, ma che noi oggi dobbiamo assolutamente continuare collaborando e riconoscendoci, perché il problema è questo, che l'Italia non conosce bene la Turchia e la Turchia conosce l'Italia, ma forse in modo troppo stereotipato. Quindi io saluto il professor Tottoli e lo ringrazio e adesso ecco non vorrei far aspettare oltre il nostro lettore, quindi vorrei dare subito la parola al professor Axar. Anche la presentazione del professor Axar è impossibile, a riassumere in poche parole, avendo al suo attivo più di 70 libri e un numero innumerevole di articoli e pubblicazioni varie. Il professor Axar è uno storico, è un profondo conoscitore della storia turco-ottomana e del periodo premoderno, ha svolto la sua carriera accademica nell'ambito dell'Università di Istamu, dove si è laureato e ha terminato il proprio dottorato in storia. Lui fa ricerche, pubblicazioni su tantissime figure della storia islamica turca, ad esempio su Piri Reis, Lalla Mehmet Pasha, sulla storia dei Mamelucchi, sulla geopolitica ottomana. Ha partecipato alla scrittura di innumerevoli enciclopedie dedicate alla storia ottomana, di cui ha scritto molteplici voci e a partire dal 2015 è il rettore dell'Università di Istanbul. Il suo contributo di oggi ha per titolo in italiano l'Anatolia e la sua cultura nel periodo di Yunus Emre, quindi ci porta in questo affascinante viaggio dopo Dante nell'Anatolia che ha visto la nascita di questo grandissimo poeta turco che è Yunus Emre. Quindi io lascio con tantissimo piacere la parola al nostro lettore, al professore Hacchia. Prego professore. Grazie, grazie Barbara. Cari partecipanti e greggio rettore, in questa occasione vi saluto con grande entusiasmo e oggi vi parlerò io dell'Anatolia e della cultura nel periodo Yunus Emre. Anch'io certamente per questa collaborazione voglio ringraziare e sia il primo delle altre collaborazioni. Ci sono alcuni concetti nella vita che quando vogliamo spiegare vediamo che le parole sono insufficienti. Nella vita materiale, secondo il nostro punto di vista, attribuiamo certi significati e non riusciamo ad esprimerle. Però quando si tratta di eventi che hanno dei valori astratti, descrivere diventa quasi impossibile. Il fenomeno del sufismo è uno di questi concetti. Certamente si può fare un'ampia varietà di definizione a livello accademico. Però il concetto include significati molto profondi, include la cultura, la storia, la comunicazione. È una etichetta, è una tradizione, una comprensione, una tolleranza verso le differenze, un rifiuto all'avidità e soprattutto a creare, a credere ad un unico creatore. Fortunatamente noi come società turca siamo in grado di esprimere con grande entusiasmo che abbiamo avuto grandi persone di queste caratteristiche. Yunus Emre ha vissuto più o meno nel 1240 e nel 1320. Secondo certe informazioni è nato a Sariköy legato a di Eskishir. Non sappiamo come ha studiato ma la sua educazione di sufismo è stata da Taptukemre e nel 1321 fu morto. Quando lui viveva sappiamo che in Anatolia c'era un periodo turbolento perché in questo periodo vennero i mongoli. C'è stata l'invasione a Mongola e l'impero sergiuchida è decaduto. I certi bei turchi si sono ribellati, hanno iniziato a incassare pesanti tasse. È veramente una grande crisi. Ma di la verità in questi periodi della crisi in realtà le filosofie della storia acquistano un certo peso. Gli intellettuali cercano di capire questo periodo storico e anche le persone normali fanno delle ricerche. Cioè chiedono un attimino da dove veniamo, dove andiamo, chi siamo, come è la nostra famiglia, la nostra nazione e spesso si pensa sulla morte, sulla rissurazione e sul giudizio. Magari si danno delle risposte piuttosto religiose. Ma la filosofia del sofismo dice a queste domande questo mondo è qualche cosa che se ne va. Invece è un posto dove andiamo avanti con le prove. Invece noi dobbiamo avere una felicità continua ed eterna nell'unità divina e così dà una certa differenza. Insomma, io non sembra che per poter comprare il grano era andato a Sarutköi vicino a Hagebekdash e prima di ritornare gli avevano dato due alternative, due opzioni. O si doveva dare il grano oppure il fiato. Gli hanno chiesto insistentemente, però io non sembra sceglie il grano, prende e se ne va. Però durante il suo viaggio si rende conto del suo errore. Dice che il grano può essere esaurito un giorno, ma il fiato non finirà mai. Allora ritorna da Hagebekdash, però lui dice non posso ridare questa, non posso fare questa opzione. Comunque la chiave della tua serratura è a top tembre, devi andare da lui. Così Yunus va da lui e comincia a servire a lui per 40 anni portando l'acqua e legna. Durante questo periodo viaggia in Anatolia, in Azerbaijan, in l'Elia. Alla fine, un giorno, oltre a Yunus Emre, in quel consiglio c'era un altro Yunus. Si chiede di cantare a Yunus, però quel Yunus non lo sente. A quel punto si rivolge a Yunus Emre e gli dice è giunto il momento, abbiamo sbloccato il tesoro del tuo cuore. Tu adesso sei così come ha detto, come ha dato l'aiuto spirituale di Hagebekdash e da quel momento in poi lui inizia a cantare. Ecco, gli studi scientifici iniziano i primi sufisti nella letteratura turca da Fuat Köprül nel 1918. Lui è sta sottolineando che un concetto metafisico molto sistematico e difficile, come va Tetevi Jut, viene spiegato da parte sua in un turco semplicissimo e brillante. E si fa una critica letteraria molto interessante da parte che dice di Selatim Eubolo e lui dice è uno che ama il suo popolo ed è amato dal suo popolo, parlava dalla bocca del popolo, il suo cuore era dalla parte di chi era oppresso e aveva superato il suo ambiente e la sua religione, era il poeta dei poeti e l'amico degli amici e straniero degli stranieri. Ecco, in questo modo aveva cercato di esaltare la lingua turca come Vilon che aveva fatto per francese, Dante e Shakespeare che avevano utilizzato la lingua del popolo. fino a questo punto abbiamo detto le cose più semplici che si potevano dire su Yunus Emre. Lui è una delle figure più importanti sia della società turca che della filosofia islamica. Nello stesso tempo è uno dei più rari esempi della civiltà turco-islamica. Di conseguenza, anche se accetto che ciò che dico non è sufficiente per descriverlo, almeno le condizioni del suo periodo sarà una buona introduzione. Per questo motivo vi parlerò dell'ingresso dell'Islam nelle terre anatoliche e poi cercherò di sottolineare gli aspetti importanti storici dell'età di Yunus Emre. Fin dall'epoca repubblicana Yunus Emre ha costituito un eccellente campo per i ricercatori di diverse discipline perché la migrazione dei turchi in Anatolia aveva creato certe incertezze in Anatolia, specialmente dopo il X secolo, unirsi dell'Islam con Anatolia ha causato un cambiamento sia nelle pratiche islamiche che nelle vite dei turchi. Come si sa, il profeta aveva fondato a Medina, a Mecca la religione, dopo era passato a Medina e qui organizzando la politica, unendo gli Ansar e i Muagir, aveva creato uno stato islamico. Dopo la sua morte invece iniziò il periodo dei quattro califi. Durante il regno di Abu Bakr, il primo califo praticamente, fu stabilito l'ordine interno dello islamico. Durante Omar e Osman è andato avanti, ma dopo il martirio di Osman inizia il periodo di Ali dove le conquiste islamiche vivono la prima fase di pausa. Il periodo dei quattro califi viene seguito dal periodo di Omayyade dove quattordici califi saliranno al potere e avanzano verso il Nord Africa. Furono prese alcune parti della Sicilia e anche Istanbul fu più volte assediata. In questo periodo, oltre la lingua, anche le monete arabe furono usate al posto di quelle bizantine e persiane. Dopo il periodo di Omayyade inizia l'era Abbaside. In quel periodo c'è un certo indebolimento nel potere centrale e alcuni dei governatori sono di origine turca. Infatti la guerra di Talas costituisce una parte importante della diffusione dell'Islam. Poi nel decimo secolo, alla seconda metà del decimo secolo, un gruppo di persone dette August, sotto il comando di Selçuk, lasciano la patria di Yenikent e vengono a Gent. Gent era una città dove c'era il popolo musulmano, ma insieme agli August, Selçuk diventa musulmano. E così gli Us diventati musulmani vengono chiamati Turkmeni, cioè sono turchi musulmani. Sir Selçuk nel 986 tra Bukhara e Samarkand ebbe una nuova identità politica. Dopo la sua morte, le lotte dei suoi nipoti Turul e Çar con i Karakhanidi che dominavano il Turchistan e il sovrano di Ghazni, Sultan Mahmud portarono alcuni risultati. Infatti, con una forza di cavalleria di 3.000 persone, attraverso il Khorasan e la Zaybayan e fu notato intorno al lago Van. Dopo questo, il prestigio dei Selçukid fu aumentato e sconfissero i Karakhanidi e erano andati fino ad Al-Zaybayan, poi si trasferirono nel Khorasan, dove chiesero una patria e sconfissero gli esercizi ghaznaviti. Nel 1071 la vittoria di Menziker diventa un punto importante per i turchi musulmani perché la religione islamica si diffonde in queste zone, sia come una politica nei conflitti dei governanti selçukidi con Bisanzio, che con gli effetti degli attacchi mongoli e dei fattori economici, le persone vennero in Anatolia e crearono una nuova forma di vita e permisero all'Islam di essere efficaci in queste terre. Ecco, così inizia il misticismo e praticamente la vita di Yunus Emre perché dopo questo tanti mistici, studiosi, artigiani, scecchi e dervici appartenenti a sette diverse vennero in Anatolia perché trovavano come un buon ambiente questa zona, come un ambiente più sicuro. Coloro che venivano da ambienti culturali elevati si stabilirono nelle città. Invece gli altri tra i nomadi, come piuttosto i padri che facevano ricordare i poeti dell'antica credenza, con una vita completamente diverso da quella città, avevano avuto una vita molto semplice e chiaro e così hanno riflettuto la loro religione dei turmene nomadi. Era un Islam insegnato a queste persone dai capi religiosi piuttosto basata sulle leggende. Per questo motivo viene detto anche un Islam popolare turco perché si conosceva superficialmente l'Islam e portavano avanti sia antiche credenze sciamaniche che alcune credenze orali tradizionali ereditate dai loro antenati. Parlavano in turco, questi religiosi venivano detti Abdal o Dede Baba e loro vivevano ciò che stavano raccontando. Parlando invece degli sviluppi sociali, quando guardiamo la storia turca, la prima fase è piuttosto nelle steppe dell'Eurosia. Quando nei tempi antichi l'effetto della geografia sulla vita umana, quando le persone non potevano controllare il potere della natura stessa, ovviamente la vecchia vita turca aveva un certo effetto sulla cultura e da tre fonti che derivava questo? La foresta, l'allevamento di animali e le opportunità agricole. Le prime culture nell'antichità hanno avuto una certa essenza, invece le tribù della foresta hanno introdotto una cultura parassitaria. Gli abitanti della terra arabile invece, così contadini, le persone della steppa invece hanno creato una cultura del pastore. La cultura della steppa è diversa dalle altre culture nomadi perché il modo di vivere è diverso. Quelli del deserto hanno il cammello, invece quelli della steppa ce l'hanno il cavallo e forza, movimento e velocità sono i tre elementi. grazie alla velocità del cavallo e della forza del ferro, i turchi della steppa sono stati in grado di diffondersi in vaste geografie e però non sono stati mai stabiliti nella loro cultura, questo non lo vediamo, vediamo solo le tombe dei loro antenati. cultura della steppa, cultura della steppa, cultura dei pastori, cultura nomade e cultura equestre, cultura nomade con case, con tende praticamente e poi cultura kurgan che scasserebbero le loro tombe sono i rappresentanti dei turchi. Nelle zone dove gli alberi e la foresta è abbondante si vedono delle case in legno oppure in feltro. nelle regioni aride invece le case di mattoni o pietre proteggevano questi con delle recinzioni per impedire gli animali selvaggi. naturalmente i turchi hanno prodotto delle soluzioni pratiche ed essendo dei nomadi hanno sempre preso in considerazione la facilità di portabilità dei loro beni. in altre parole le tende, le tende, le tende, le tende, le tende eccetera sono state facilmente trasportabili con animali oppure con i loro carri. una storia dettagliata sulla prima traccia della vita stanziaria non ha senso però dobbiamo dire una cosa che lo Stato ha avuto una politica di reinsadiamento. prima dell'undicesimo secolo la lotta bizantina islamica aveva causato la distruzione della Natalia e poi anche la popolazione è diminuita. allora anche a causa delle crociate c'erano delle zone vaste senza nessuno. i sultani sergiocchiti hanno deciso di riempire queste zone con delle comunità turkmene. però non volevano che tutto questo si facesse inconsciamente allora hanno iniziato un lavoro sistematico. e a causa delle migrazioni delle invasioni mongole i turkmeni si sono insediati specialmente nelle zone estreme perché loro potevano creare del caos e poi nei confronti dei nemici sarebbero forti militarmente. nell'islamizzazione dell'anatolia sia durante il periodo dei seminomadi che durante il periodo di vita stanziale mi sceglie che i dervici venuti all'Asia centrale hanno avuto una grande influenza sulla vita dei turchi. per esempio il padre di Baha'i Ten Velet, padre di Mevlana Gelalit Ten Rumi ha creato una scuola da questo concetto di Vah Tete Vujot e insieme alla moralità estetica, tolleranza e amore con elementi estetici come musica, sema e poesia hanno unito questa scuola a grandi masse di uno sempre in più in lingua turca l'ha realizzato. parlando della struttura del terreno dobbiamo parlare del sistema di cut e questo cut deriva da tagliare. Praticamente ci sono quelli che sono autorizzati al nome del governo e loro riescono alla proprietà, operazione o utilizzazione oppure di incassare le tasse. Ecco, l'aristocrazia araba pre-islamica non era nella terra come quella dell'Europa medievale. Nei primi periodi dell'Islam i paesi conquistati furono accettati come proprietà dei soldati arabi e chi non accettava l'Islam venivano divise tra i conquistatori e divennero detti ushri. A parte questo, le terre delle persone che credevano in religioni diverse dall'Islam sono state separate come terre straordinarie. Ecco, d'ora in poi, nel periodo di Omar, questo non è stato diviso tra i conquistatori ma sono diventate assegnate a comandanti militari. Praticamente le persone che vivevano in questa terra davano una certa tassa a queste persone e le persone o li tenevano oppure una parte mandavano allo Stato. E certamente questo ikhtà militare era una novità che era venuto con Vizir Nisamil Mulk. Però si capisce che anche prima di lui c'era, lui molto probabilmente l'ha reso una struttura più sistematico. Durante il periodo di Miliksha questo sistema si è diffuso in tutto il territorio e specialmente dove c'era un caos in questi paesi, allora si è cercato di dedicare le rendite ai soldati. Così in breve tempo c'è stato un grande aumento del livello di benessere e loro non avevano nessun tipo di diritto su questa terra e se uno si comportava nel modo contrario allora la terra si prendeva dalle loro mani perché lo scopo era quello di non far soffrire al popolo. Per questo motivo ogni due anni veniva cambiato queste persone autorizzate e quando poi c'era qualche soldato morto oppure ferito questo doveva essere informato immediatamente. Insomma questo è stato utilizzato perché in Asia centrale i Turchi Aus hanno dovuto immigrarsi verso Anatolia, allora per loro bisognava trovare delle terre. Di conseguenza per poter proteggere loro hanno realizzato questo sistema e così i Seljukiti hanno fondato, hanno avuto, hanno conquistato l'Anatolia. Ecco per questo motivo c'è stato questo sistema di ICTA. I loro servizi militari lasciavano ai soldati le tasse e poi queste terre e le tasse venivano incassate dal popolo. Le attività economiche dei Seljukiti era piuttosto per l'allevamento di pecore, capre, bovini, cannelli, cavelli e poi i prodotti come olio, formaggio, yogurt, pellame, tessitura. Alcuni di questi venivano esportati in Iran, Iraq e Siria. Invece l'ana di Ancara e la seta, il tessuto in cotone e tappeti in Europa. Insomma c'era un'esportazione, una vita economica molto attiva. Parlando della vita culturale, invece, possiamo dire che dopo la conquista dell'Anatolia questa regione viene sviluppata economicamente con libertà di pensiero, con una certa stabilità e con la sicurezza dell'amministrazione statale. Inoltre, così come Karakhanit e Ghaznavit, anche i sultani hanno iniziato a chiamare molto studiosi, pensatori e artisti da Turchistan, dalla Siria, dall'Iraq ad l'Iraq. E perché venivano prodotti e ricevevano dei doni e delle benedizioni che meritavano. Non facevano solo Locande, Terme, Cervanserani, Ponte, eccetera, ma si impegnarono anche nell'attività scientifica e culturale. In Anatolia, tutta questa attività scientifica era iniziata prima intorno al Polo Talazzo, ma poi dopo, con i figli di Kliciasla, era andato verso i circoli delle città. Fin dai primi periodi del Sufismo, i Sufi che cercavano di vivere sinceramente la loro religione, senza lasciarsi ingannare dai trucchi dell'ego e del diavolo, cercavano di tenersi distanti dalle persone che consideravano come persone del mondo. Perché loro davano un grande valore a quelli che avevano l'amicizia sulla via di Allah. Questo legame di fratellanza hanno cominciato a dare dei nomi agli ambienti come Canca, oppure Logge Dervici o Zavie. Per far funzionare nel modo ordinato, hanno cercato di svolgere degli ordini e di determinare le etichette e per questo hanno scritto addirittura dei libri. In un certo periodo, questi Hangar assumevano le funzioni di medrese e andavano avanti con l'educazione mistica. e poi grandi Sufi avevano iniziato a cambiare il loro modo di vivere e a coloro che erano inclini alla vita mistica si dava l'opportunità di scegliere quella più adatta alla propria disposizione. La parola Hangar deriva dal persiano, dal carvanzaraglio, dalla casa praticamente. E in tutti i testi persiani vanno avanti le derivazioni di questo Hang e poi è diventato un nome in arabo ed è diventato molto diffuso. Poi si dice che deriva anche dal tavolo, il luogo dove si mangia. Poi hanno utilizzato anche altri nomi. Per esempio, quelli dell'ottavo secolo hanno utilizzato il nome di Salma e Migra che veniva menzionato anche nel Corano. Gli ottomani hanno utilizzato il dergia, lo già dei dervici piuttosto. E le medrese hanno avuto un certo influenza su questo e qualche volta Hangar ha anche assunto le funzioni della medrese. Qualche volta non erano molto resistenti questi ambienti anche perché avevano una vita molto semplice i primi sufi. Però col passare del tempo i ricchi hanno cominciato, i benestanti, hanno cominciato ad aiutare questi ambienti e così sono nati degli ambienti più solidi architettonicamente. Questi ambienti hanno la biblioteca, magazzino, un'aula scolastica e qualche volta poi anche dei personaggi come Pichrev o Emir vengono nominati in questi ambienti. C'erano diverse lezioni come Tafsir Hadis e poi si dava una grande importanza alla musica religiosa. Si cantavano poemi e ingni e fu eseguito il sema. Per poter tenere pulito c'era una divisione del lavoro. Ogni dervicio lavorava senza trascurare il suo dovere altrimenti veniva punito. Nella metà dell'undicesimo secolo i grandi selciuchisi sono andati avanti con le medrese che avevano questo lato. Cioè hanno cercato di eliminare le tendenze scite che svilupparono parallelamente alla perdita di potere del califrato abbasside. Di conseguenza, qui in Horasan specialmente, nella zona Siria-Palestina-Egitto, Hanqar è diventato un ampio respiro che hanno bisogno di essere legato ad un ordine religioso anche se sono rifugi dei devici e possono anche essere gestiti da amministratori nominati dallo Stato quando necessario. Nelle tombe di questi Hanqar sono sepolti sultani o emiri e di solito sono state educate le persone di grande importanza ed erano sempre vicino ai sultani o ai emiri. In letteratura si può dire che il popolo dell'Anatolia ha mostrato un grande interesse per la poesia. Con la volontà delle persone che amano la poesia e la guardano con simpatia, la poesia ha trovato in Anatolia un ambiente adatto. Anche quelli che non si interessavano con la poesia come Mevlana cominciarono a cantare poesie e sceglievano di esprimere i propri sentimenti e i pensieri con la poesia. Da un lato i poeti usavano la poesia come un mezzo per educare, illuminare e informare la società, soprattutto il pubblico. La vedevano come uno strumento che risponde ai sentimenti estetici di chi ha una certa conoscenza apprende la verità con il linguaggio della verità. Mevlana era di Bel. In quella città natale non si dava importanza alla poesia e lui dice che io adesso vivo in Anatolia e le persone di questa zona desiderano la poesia, di conseguenza lui comincia a scrivere le poesie. Nel XIII secolo, dominato dallo stato Sergio Kede, fu un periodo in cui le opere letterarie furono scritte in persiano piuttosto che in turco. Nel XIV secolo c'è un grande aumento del numero di opere turche anche grazie a quelle tradotte. nel XIII secolo le basi della tradizione della poesia classica turca la troviamo. Certamente non si può dire che è stata proprio la fondamenta, ma sia le caratteristiche interne che quelle esterne non si radunano, non si uniscono direttamente con quella della letteratura turca classica. Però le sue opere, se anche non sono in turco, sul Tamvelet, figlio di Mevlana e anche Ionos Emre, hanno utilizzato, hanno svolto un ruolo di primo piano e nelle loro opere hanno usato la prosodia Aruz e questi Gassal e Mesnevi hanno avuto delle forme dei versi e alla fine del XIII secolo e all'inizio del XIV secolo, per le poesie hanno utilizzato sempre Aruz per il linguaggio della poesia. Concludendo, possiamo dire che tutto questo non è in grado di fornire tutto un periodo, però se pensiamo che tutti quelli che hanno vissuto in quel periodo si può avere un'idea. Cioè, volendo riassumere, Ionos Emre è un poeta che cerca di spiegare se stesso e i valori in cui crede a suo modo, pur avendo una certa ombra in quel periodo. Questo periodo è un periodo in cui esistenza e assenza convivono per vari motivi. lui ha cercato di trovare le soluzioni nell'Islam, nel Sufismo, ha cercato di insegnare a tutta l'umanità non solo l'amore di Allah, ma anche la tolleranza, amore, rispetto, la pazienza. ha detto che lo scopo della vita non deve essere cercato nella materia, ma nel cuore. Anche oggi riteniamo nostro dovere salutare questa persona intellettuale. sappiamo che tutte le generazioni che cresceranno continueranno a trovarsi sulla strada che ci hanno mostrato Grazie per la vostra attenzione. Benissimo. Allora, io ringrazio di tutto cuore il professor Ak per il suo intervento e la sua precisa descrizione del contesto culturale dell'Anatoria dei tempi di Lino Sembrè. L'incontro di oggi, in effetti, intendeva aprire i lavori e fornire un'introduzione generale al periodo storico che sia il professor Tottoli che il professor Ak hanno minuziosamente tratteggiato per noi. A questo punto do appuntamento a tutti coloro che siano interessati a proseguire questo nostro viaggio nel mondo di Dante e di Lino Sembrè al nostro prossimo appuntamento che avrà luogo giovedì prossimo allo stesso orario che sarà dedicato al tema della letteratura e quindi ad un'analisi più dettagliata dei lavori letterari sia di Dante che di Lino Sembrè e faranno poi seguito due incontri dedicati rispettivamente alla teologia e alla lingua dei due poeti. Quindi ci ripromettiamo nei prossimi incontri di avere più tempo a disposizione per eventuali domande. Saluto i nostri relatori e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Quindi buonasera a tutti e arrivederci al prossimo incontro. Grazie. Grazie. Grazie.